Quando você fica fuori a una competizione siente dolor, o torcedor, o giocatore, o giocatore. Tiamo che continuare lavorando e migliorando. Io ho detto al inizio, il messaggio è chiaro. Non conosco a nessun entrenatore che tome decisioni per tentare fare un malo per Timmy. Io ho detto ora, se abbiamo un giocatore con disconforto e voi non lo sapete, è perché non vi passare informazioni per altri Timmy. Dopo tutto c'è una explicazione. Io ancora come entrenatore non disarmi un Timmy che è trozzato, non ne saquei un miglior giocatore del campo ancora. Può equivocare in alcun momento e può succedere. Però, beh, il torcedor può dare il suo protetto. E io sono molto confianti nel mio lavoro. Non mi ritrovano qui perché sia un giocatore che sia un giocatore. E io sono un giocatore che sia un giocatore. E io posso lavorare il giorno a giorno e dare il miglior per il team e dare le miglior condizioni alle migliori per ogni giocatore. E io lo intendo fare. Il gruppo sta forte, non significa che non sente dolore quando le cose stanno in giocatore. sono più cose che stanno dando certo che stanno dando ruim e continuare a lavorare